Ovini e bovini potranno essere nuovamente movimentati fuori dal territorio regionale. Lo comunica il Ministero della Salute che con una nota ha indicato alla Regione Sardegna le modalità per la ripresa della movimentazione degli animali. Si allentano così le restrizioni in vigore non solo per la malattia del cervo ma anche per le zone infette dal sierotipo 3 della Bluetongue. Per la malattia del cervo, secondo quanto comunicato dal Ministero, la movimentazione fuori regione è nuovamente consentita da tutta l'isola agli animali di allevamento che siano stati sottoposti al test PCR specifico con esito negativo. La stessa procedura è prevista per la movimentazione dei capi dalle aree dell'isola infette dal sierotipo 3 della lingua blu mentre nel resto della Sardegna, in relazione agli altri sierotipi, le movimentazioni potranno riprendere regolarmente senza test PCR per l'individuazione del virus della Bluetongue. In tutti i casi in cui è prevista l'esecuzione del test specifico, gli animali da movimentare dovranno essere sottoposti a PCR al termine di un periodo di trattamento insetto repellente di almeno sette giorni e che dovrà essere comunque effettuato fino al giorno della partenza. Gli animali potranno essere movimentati liberamente, ovvero senza test preventivo, solo per la macellazione, a condizione, si legge nella nota del Ministero, che la macellazione venga effettuata nel minor tempo possibile. Viste le condizioni è un'ottima notizia, ha commentato il Presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu, visto che siamo alla vigilia di Natale ed arriviamo da un mese di blocco totale. Occorre lavorare per isolare il virus e consentire la movimentazione liberamente perché gli allevatori sono allo stremo, in particolare quelli dei bovini da carne che vendono la stragrande maggioranza dei vitelli fuori dall'isola. In questo mese hanno subito ingenti perdite per le mancate vendite e un aumento pesante dei costi per alimentare e tenere in stalla gli animali. Per questo è fondamentale, ha concluso, assicurare immediatamente i ristori per le perdite subite e abbattere i costi della PCR che, ricordiamo, ammontano a circa 25 euro a capo.